Sono 883 nuovi contagi registrati in Puglia secondo i dati dell'ultimo bollettino epidemiologico 10.374 i test effettuati per un'incidenza di nuovi positivi che torna a salire rispetto a martedì attestandosi all'8,5%. I nuovi casi registrati sono distribuiti 342 in provincia di Bari, 80 in quella di Brindisi, 89 nella Bat, 98 nel Foggiano, 72 in provincia di Lecce, 197 nel Tarantino, 3 residenti fuori regione e 2 casi di residenza non nota. Dall'inizio della pandemia dunque salgono a 137.078 i casi totali in Puglia, 17 i decessi registrati, 7 nel Barese, 4 in provincia di Lecce, 2 in quella di Foggia, 2 nel Tarantino, 1 nella Bat ed 1 residente fuori regione. I morti totali salgono così a 3.672. Ancora alto il numero di negativizzati secondo i dati dell'ultimo bollettino 2020 che portano il totale dei guariti ad oltre 95.000. Continuano a diminuire gli attualmente positivi ad ora poco più di 38.000. Di questi oltre 36.000 sono ristretti presso il proprio domicilio 1.470 i ricoverati, 10 unità in meno rispetto a martedì, mentre resta invariato il numero dei pugliesi in terapia intensiva, sempre 156 per via dei soli 5 ingressi giornalieri. Proseguono seppur lentamente le somministrazioni del vaccino anti-covid in Puglia. Secondo l'ultima stima sono 170.000 le dosi inoculate in regione, quasi 70.000 coloro che hanno ricevuto la seconda. Attualmente la Puglia ha somministrato il 74,3% dei vaccini disponibili in totale.